Sappiamo tutti della mela di Newton. Sotto un albero, perso nei suoi pensieri, il fisico inglese ebbe l'intuizione della gravità. Una banale mela caduta agli addosso suggerì un'intera teoria, vasta e rivoluzionaria, su qualcosa a cui non aveva mai fatto caso, pur avendolo sempre avuto di fronte a sé. E forse è possibile trovare un parallelo nelle scienze umane e sociali. È il 6 ottobre del 1973. Un professore di letteratura comparata di New York, che insegna alla Columbia University, è a casa mentre guarda la tv. A un certo punto c'è una breaking news. L'esercito egiziano ha sfondato, con dei potenti canoni ad acqua, le barriere di sabbia che gli israeliani avevano eretto sul lato orientale del canale di Suez. Le forze di Tel Aviv si erano assestate là dopo aver conquistato, nella guerra dei sei giorni del 1967, la penisola del Sinai. È l'inizio della guerra dello Yom Kippur, la quarta tra arabi e israeliani. Non solo gli egiziani sfondano le barriere, ma addirittura con grande coordinazione e preparazione attraversano il canale e stabiliscono una testa di ponte, dalla quale entrano nel Sinai stesso. L'attacco sorpresa sarà decisivo per porre Israele sulla difensiva e giungere poi, nel 1978, agli accordi di pace da una posizione negoziale migliore. Il professore, vedendo i carri armati dell'esercito di Anwar Sadat spingersi oltre le fino ad allora impenetrabili difese israeliane, è stupito fino al colmo. Com'è possibile? Si chiede. Il professore conosce bene l'Egitto, conosce bene il problema arabo-israeliano. E sì, cittadino americano, ma di origine palestinese. È infatti nato a Gerusalemme nel 1935 da una benestante famiglia di arabi cristiani. Come spesso accade, è stato infatti battezzato con un nome cristiano, Edward, cui fa seguito un nome arabo, Wadi. Edward, Wadi, Saeed. Con la creazione di Israele nel 1948, la famiglia si sposta al Cairo e poi negli Stati Uniti. Lì Edward completa un corso sonoro ma accademico di assoluto prestigio. Laurea Princeton, dottorato a Harvard, cattedra alla Columbia. Si ispira a Foucault, Fanon e al nostro Gramsci. Studia i grandi lavori della letteratura occidentale con spirito critico che ne fa uno degli astri nascenti nel panorama delle scienze umane e sociali nell'Accademia Americana. Quel giorno di ottobre è stupefatto dall'avanzato egiziano, in particolare dalla loro organizzazione, dedizione, disciplina. Ma come, si chiede. Gli arabi non sono mica codardi, sleali, indisciplinati. I precedenti sconfitte militari, specie in grado di Israele, spiegavano in quei termini le disfatte arabe. E mentre pensa a questo, gli sovvengono tutta una serie di immagini relative al mondo arabo che popolano il suo immaginario. Genie lampade, duelli con scimitarre, donne sensuali negli arem di ricchissimi sceichi, incantatori di serpenti, gran vizir che tramano all'ombra del sultano. E lui, arabo, che ha vissuto fino alla prima adolescenza in quelle terre, non può fare a meno di pensare che in effetti tale immagine nella sua vita tra Gerusalemme e il Cairo non le ha mai viste. Perché, si chiede. Mi stupisco se gli arabi sanno combattere, come fossero in qualche modo diversi da altri popoli di cui esaltiamo le virtù marziali. E perché, quando penso al mondo arabo, mi sovvengono immagini che so, per esperienza diretta, non corrispondere al vero. È la mela di Newton. Said intuisce che quanto lui sa o crede di sapere sul mondo arabo, lui stesso, un palestinese proveniente da quel mondo, non è una conoscenza oggettiva, imparziale o innocente, ovvero scevra, da conseguenze politiche. È invece frutto di una rappresentazione, ovvero un artefatto, un artificio. Una rappresentazione che qualcuno ha prodotto, dove gli arabi sono imbelli e codardi, e dove troviamo un mondo senza tempo, popolato da Alibaba e Saladino. Un sistema di rappresentazione che, Said pensa, si estende poi anche al mondo islamico, hindu, cinese, orientale e insensolato. Quindi, dice Said in un'intervista che si può trovare online, ho pensato, voglio scrivere la storia di come queste rappresentazioni sono state generate. È l'inizio della stesura di Orientalismo, un volume di poco meno di 400 pagine che Said pubblicherà 5 anni dopo nel 1978 e che lo renderà uno degli intellettuali e studiosi più famosi al mondo. La ragione è presto detta. In Orientalismo, Said vuole ricostruire come l'Occidente abbia rappresentato in epoca moderna l'Oriente. Di più, l'Occidente ha prodotto l'Oriente stesso, secondo Said. Gli studi e la conoscenza che sono fioriti sull'Oriente sono alla base di un Oriente narrato e descritto da altri. Celebre l'epigrafe che apre Orientalismo. Essa cita un passo del 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, dove Karl Marx dice dei contadini francesi Essi non possono rappresentare se stessi, devono essere rappresentati, ovvero qualcuno, qualcun altro, descrive chi siano tali umili soggetti. Da parte loro non lo possono fare. Così, dice Said, o fa intuire, i popoli orientali agli occhi dell'Occidente. La riflessione di Said si concentra soprattutto sul mondo arabo e islamico, ma si può applicare appunto ad altri contesti e paesi. Said elabora una teoria su come l'Occidente rappresenta e produce l'altro, ovvero quello che Occidente non è. Secondo tale teoria, vi è uno stretto rapporto tra la rappresentazione di questi popoli e le politiche che i paesi europei adottano nei loro confronti. Rappresentazioni e politiche che si nutrono a vicenda. Da un lato, la loro rappresentazione come inferiori e sottosviluppati o barbarici e minacciosi giustifica l'uso della forza in loro confronti e la loro sottomissione. Dall'altro lato, tale sottomissione rende possibile continuare a produrre tali rappresentazioni. In questo modo, Said pone le basi per lo sviluppo della letteratura postcoloniale, una disciplina vastissima che andrà ad applicare la sua intuizione fondamentale non solo alla letteratura comparata, il campo di studi principali di Said, ma anche alla storia, alla sociologia, alle scienze politiche, all'antropologia, agli studi di genere, alla filosofia, all'arte, alla psicologia sociale. Lo studio di quello che è stato il colonialismo e soprattutto dei suoi effetti di lungo periodo, le sue implicazioni e conseguenze, si basa appunto sulla relazione che Said postula tra rappresentazione e conoscenza da un lato e potere dall'altro. Una rappresentazione, un sapere, che non sono mai oggettive o puramente scientifiche, anche quando hanno la pretesa di esserlo, dice Said. Sono invece funzionali ad interessi politici. Detto altrimenti, quello che in Occidente si crede di sapere sul mondo arabo-islamico non è una rappresentazione fedele della realtà, è una rappresentazione viziata da un progetto politico volto a sottomettere l'altro e funzionale a tale progetto. Consideriamo, per esempio, quello che Said ricostruisce rispetto alla campagna militare di Napoleone in Egitto. I versi di manzoniana memoria ci ricordano appunto come Napoleone operò dalle Alpi alle piramidi. Quando invase l'Egitto, per colpire gli interessi commerciali britannici, non portò appresso con sé solo militari, armi e vettovaglie. Napoleone portò con sé anche archeologi, filologi, geografi, storici. Voleva mappare il paese, voleva conoscerlo, capirne lingua, geografia, storia, costumi, istituzioni. I volumi prodotti dalle équipe di studiosi francesi sono tuttora una fonte incredibile di informazione e sapere sull'Egitto di fine settecento. Ma ecco appunto che tale informazione e sapere non sono state prodotte per un desiderio, fine a se stesso, di conoscere e comprendere l'Egitto, la sua storia, la sua cultura, la sua società. Invece, sostiene Said, sono state prodotte per poterlo dominare più facilmente. Se conosco come funziona un paese, se capisco quali siano i suoi tratti fondamentali, posso agire di conseguenza e soggiogarlo più facilmente. Non solo. Posso produrre una rappresentazione di quel paese che giustifichi tale dominazione. Se descrivo l'Egitto come lontano dalla libertà e dal progresso europeo, se dichiaro la cultura araba e la regione islamica come retrograde e liberticide, oppressive e irrazionali, ecco che la mia campagna militare, violenta e aggressiva, come impossibile che non sia, viene non solo assolta, ma anzi pienamente giustificata. È addirittura quasi un dovere di fronte alla retratezza morale, culturale, politica ed economica dei popoli che vado ad incontrare. Se Said inizia la sua discussione dall'invasione francese dell'Egitto, non è certo un caso. A quell'epoca la Francia e l'Europa tutta vivono da oltre un secolo un periodo di grande fermento culturale che conosciamo appunto come illuminismo. La Francia rivoluzionaria è prodotto dell'illuminismo. Altro non è che il rifiuto dei secoli bui e l'affacciarsi di un sapere nuovo, scientifico, laico, razionale. Di contro, tutto ciò che non risponde a tali canoni è quindi necessariamente retrogrado, irrazionale, ancora ancorato a dettami religiosi e dunque oppressivi. Niente rafforza questa convinzione più del mondo arabo-islamico a sud del Mediterraneo che appare appunto come un mondo alla rovescia, così chiaramente opposto a tutto quello che l'Europa dell'illuminismo vuole essere e che quindi, sostiene Said, viene rappresentato precisamente in quella luce per sostenere e rafforzare tale convinzione. Come detto, Said si occupa principalmente di letteratura comparata. In orientalismo esplora come la letteratura europea, o meglio, francese e inglese, che sono le due lingue europee che lui conosce, produca esattamente una certa rappresentazione dell'Oriente per renderlo proprio l'opposto, l'altro rispetto all'Occidente. Per esempio, Said studia i lavori di Christophe Flaubert, il gran dottore francese che aveva visitato il Cairo negli anni 40 dell'Ottocento e redatto poi un diario di viaggio. Nell'opera di Flaubert, l'Oriente è sempre descritto tramite tutte quelle immagini, supposizioni, pregiudizi sul mondo orientale che Said stesso conosceva bene. Erano infatti le stesse immagini, gli stessi pregiudizi che lo colpirono quando, di fronte al televisore, quel giorno di ottobre del 1973, notò come questi non corrispondevano affatto a quanti soldati egiziani stavano facendo o come si stavano comportando. Addentriamoci dunque dentro tali rappresentazioni che per Said non sono appunto innocenti, un termine che lui usa spesso nel libro, ma sostengono invece un progetto politico ben preciso. L'invasione dell'Egitto del 1798 ne era al Prodromo. Nel 1831 poi la Francia occuperà l'Algeria e lì vi ramberà per oltre 130 anni. Nella seconda metà dell'Ottocento è l'intero continente africano ad essere posto sotto il dominio coloniale, così come lo sarà tutto il subcontinente indiano. Dopo la Prima Guerra Mondiale è la volta di buona parte del Medio Oriente. Ora, come sono rappresentati i popoli dal dominio coloniale europeo? Da una serie di studiosi, ufficiali di Stato, ma anche appunto letterati e intellettuali. In che modo la produzione di un certo sapere sul mondo non-europeo descrive chi europeo non è? Vi sono alcune caratteristiche salienti, ci dice Said. In primo luogo le rappresentazioni sono basate sul principio dell'essenzialismo. Significa che per spiegare come una determinata popolazione si comporti o quali istituzioni la governino, bisogna individuarne l'essenza, ovvero un tratto fondamentale e fondante. Questo tratto, si va di bene, è astorico, ovvero non può cambiare con il trascorrere del tempo. È immutabile. Facciamo un esempio. Qual è la mentalità araba? Pongliamo che sia tribale. Quindi ancestrali legami clanici, le realtà familiari e profondo senso dell'onore di gruppo definiscono, al di là di economia, istituzioni, rapporti con altri popoli, vicende storiche, percorsi intellettuali, artistici, come gli arabi pensano e come si comportano. Una mentalità che definisce gli arabi come tali e che non può essere cambiata. Nel rappresentare gli arabi come tribali produciamo un'immagine che, veritiera o meno che possa essere in certi contesti ed epoche storiche, è funzionale a descriverli come essenzialmente non sviluppati e non moderni. Inclini invece la divisione, incapaci di collaborare al di fuori della cerchia a cui si sentono di appartenere. Inoltre, tale rappresentazione ha l'invidiabile vantaggio di esentarci dallo studio profondo e serio delle mutevoli vicende storiche e politiche dei popoli arabi. Basta conoscere l'essenza, il resto non conta. A corollario, ecco che una rappresentazione orientalista sostiene sempre se impedisce di concepire il cambiamento. Poniamo, per esempio, che si definisca l'essenza dell'Islam. Lo si fa chiaramente per capire come si comportano i musulmani. Qual è l'essenza di questo credo? Se si rappresenta l'Islam come incapace di distinguere o separare religione e politica, ecco che l'Islam diventa l'opposto della laica e secolare cultura occidentale. Se diciamo come si è fatto che l'Islam è inerentemente violento, ecco che diventa pure minaccia concreta, una minaccia che non potrà mai cambiare in futuro, perché è brutto dell'essenza stessa dell'Islam. L'Islam per sempre è minaccioso. Ed ecco ora un secondo color largo. Un sapere orientalista tende a generalizzare in maniera rozza, a volte brutale. Se l'essenza degli arabi è una mentalità tribale, tutti gli arabi, non importa dove, quando e come vivono, sono fondamentalmente tribali. Se i musulmani credono in una religione dove politica e fede sono la stessa cosa, alla fine dei conti questo si applica a tutti coloro che si dichiarano musulmani. Ancora una volta, è una conveniente semplificazione della realtà. non ci suggerisce di apprezzare le differenze di un mondo variegato tanto quanto e forse più del nostro. Solo di rappresentare, con il pennello grande avrebbe detto una celebre pubblicità di qualche anno addietro, una varietà altrimenti di stupefacente complessità e articolazione. Chiudiamo questo primo punto della nostra discussione su Said notando forse l'aspetto più barattossale di tutto questo. Ovvero che in questo sistema di rappresentazioni, con le caratteristiche e i fini che abbiamo sin qui descritto, possiamo rascontrare qualcosa che molti tra noi occidentali, magari anche tutti tra noi occidentali, sentiamo, ovvero una profonda affascinazione con un mondo altro rispetto a noi. Una affascinazione che genera stupore e interesse. Come intendiamo soddisfare questo interesse? Come intendiamo rapportarci all'altro? È quanto Said va poi a discutere nel resto di orientalismo. Affronteremo tutto questo nel prossimo episodio.